yoga per l'amore il metodo namaskar la parola yoga significa unione unione di tutte le polarità maschile e femminile yin e yang individuale e universale shiva e shakti emisfero destro e sinistro del cervello o in qualsiasi modo le si vogliono chiamare per raggiungere questa benefica unione la forma più semplice è lo yoga del namaskar unire le due mani in allineamento tra di loro all'altezza del cuore ti porterà una certa armonia tra le polarità interiori questo a sua volta ti darà un senso di unione con chiunque e con qualsiasi cosa a cui rivolgerai il namaskar nell'unire le tue mani le dualità tra ciò che ti piace e non ti piace e i tuoi desideri e le tue repulsioni si affievoliscono e si manifesta un certo senso di unione nell'esperienza di chi sei per alcuni minuti ogni giorno unisci le tue mani insieme in namaskar guarda qualcuno qualcosa che significa molto per te può essere il sole la luna le nuvole il cielo vuoto gli alberi le rocce tuo marito tua moglie il tuo bambino tua madre tuo padre o una fotografia alla quale tieni guarda quel qualcuno o qualcosa con il massimo livello di emozione che riesci a generare in un atteggiamento di amorevole attenzione mantieni il namaskar da tre a cinque minuti la tua vita entrerà in modalità di trasformazione una volta che un essere umano diventa più consapevole della propria natura capisce che per avere un'esperienza di amore di beatitudine di estasi e anche per sperimentare modi di vivere orgasmici in realtà non ha bisogno di nessuno